Ispirazione Ispirazione viene da un bellissimo film dei primi anni 2000 che si chiamava I Tannenbaum, che sicuramente tutti l'avranno visto dove veniva rappresentata una sgangheratissima famiglia alto-borghese americana con uno stramissimo modo di vestire e uno stramissimo modo di vivere noi abbiamo preso ispirazione da alcuni di questi personaggi e li abbiamo trasformati secondo il nostro DNA riprendendo alcuni spunti tipo, non so, uno degli interpreti maschili portava sempre una fascia da tennista in testa ecco che abbiamo fatto le fasce in testa però arricchite al femminile con delle pietre preziose oppure, non so, uno degli elementi base dell'abbigliamento di quella famiglia erano le polo, ecco che nella collezione ci sono le polo declinate in innumerevoli versioni quindi diciamo così, un Cividini alla Tannenbaum, una Tannenbaum alla Cividini grazie a tutti! grazie a tutti!